Era un'ipotesi che avevamo già prospettato come amministrazione regionale, è un intervento doloroso per il Friuli Venezia Giulia ma che ormai è assolutamente necessario. L'assessore a sicurezza e immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pier Paolo Roberti, ringrazia il governo per il ripristino dei controlli al confine con la Slovenia, deciso ieri a partire da sabato 21 ottobre, pur non nascondendo la preoccupazione tra la popolazione locale che la sospensione del trattato di Schengen per un periodo di 10 giorni prorogabile fino a 6 mesi possa causare disagi a chi opera a cavallo del confine. Era sicura. Per cercare di contrastare quei flussi illegali della rotta balcanica ma in più evidentemente dopo l'aggressione di Hamas nei confronti di Israele e soprattutto dopo l'attentato di Bruxelles evidentemente l'attenzione deve salire. Questi controlli servono proprio a questo. L'auspicio come ha pur dichiarato il ministro dell'interno piante dosi è che questi controlli serviranno per controllare appunto quindi i disagi dovranno essere limitati quanto più possibile invece per i nostri cittadini che vivono da trasfrontalieri e che fortunatamente sono ormai abituati a vivere in un'Europa senza confini interni. Il modello insomma non deve far pensare al blocco attuato durante la pandemia dalla Slovenia nei confronti dell'Italia. I controlli saranno calibrati per causare il minore impatto possibile sulle circolazioni trasfrontaliere e sul traffico merci. È probabile che si tratterà di controlli a campione piuttosto che a tappeto ma sulle modalità stanno lavorando prefetture e forze dell'ordine. Posso semplicemente dire che dal punto di vista operativo non spetta certamente a noi stabilirlo. Posso però sicuramente dire che quello che abbiamo visto in pandemia quando per bloccare i confini sono stati messi da parte slovena dei massi in mezzo alla strada per bloccare fisicamente il passaggio non è quello che vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Vedremo certamente un intensificarsi della presenza delle forze dell'ordine, un controllo maggiore di chi passa e soprattutto un controllo di chi passa illegalmente, senza documenti, senza che sappiamo chi sia quella persona lungo i nostri confini. Questo dovrebbe essere a garanzia di tutti.